Penultima giornata nel Girona B di eccellenza, la Vogherese con tantissima assenza ospita l'Accademia Pavese nell'ennesimo derby del Parisi. Nonostante la formazione rimaneggiata è la Voghe a partire meglio. Sponta di Diop per Selmi, il centrocampista si libera di un avversario ma il diagonale si apre troppo e finisce non di molto, alla destra di Migliari. Avvio positivo quello dei rossoneri, Diop mette giù un altro pallone e stavolta parte a tutta velocità involandosi verso la porta. Destro che colpisce in pieno, il palo sulla respinta il tiro di Selmi trova impacciato Migliari ma Pinessi è in fuori gioco, così quando il numero 7 segna si alza. La bandierina dell'assistente è sfortunato e non poco di O, ma una buona Voghe nei primi 10 minuti in precisa. Però negli ultimi 20 metri ci prova anche Castellano ma il tiro è smorzato e non crea grattacapi al portiere ospite. Tutto in 10 minuti come detto, poi si vede anche l'Accademia Pavese. Prima il tiro a giro di Bonelli, largo non di molto con De Toni che però controlla il pallone uscire alla sua destra. Successivamente per i poloso Maione che fa tutto bene nel liberarsi per la conclusione ma tradisce proprio al momento del tiro e De Toni controlla. Al trentatresimo Dio si lancia in velocità e quando prende il tempo non ce n'è per nessuno. Tambussi è costretto a fermarlo così, giarlo per l'ex vogherese che rischia anche qualcosa in più ma c'erano compagni ben appostati in area. Tambussi soffre idioma, si fa vedere anche nell'altra area di rigore su un calcio d'angolo, manca però l'impatto con il pallone da due passi. Zero a zero all'intervallo, caldo e stanchezza che cominciano a farsi sentire ma vogherese che prova subito a partire col piede sull'acceleratore anche nella ripresa. Castellano serve Casella appena entrato che però si perde dopo il dribbling sull'uscita di Migliari. Vogherese caparbi anche nel tener vivi pallone ormai persi, un emblema è Castellano e Diò che riescono ad ispirare Cavaliere. Cavaliere ritrova Castellano, il numero 11 salta un avversario ma poi la conclusione è completamente da dimenticare e anche Martignoni si dispera. Come nel primo tempo col passare dei minuti esce l'Accademia. Mazzocca recupera un gran pallone sulla sinistra, l'azione è avvolgente ma i bianco-rossi non riescono ad entrare in area di rigore così il tiro da fuori è da dimenticare con De Toni che controlla. Mazzocca è un fattore sulla sinistra creando ben più di un creato capo. Il terzino impegna De Toni che respinge il pallone, resta però pericolosamente in area di rigore e poi è monumentale. Il portierone rosso-nero sulla conclusione a botta sicura di Catania. Ancora una volta strepitoso De Toni nel salvare il risultato più tranquillo e portiere sul tiro di Maggi deviato in corner. Nel finale tocco con la mano di Calviello che gli costa il secondo puntiglioso giallo e lo costringerà a saltare così la sfida di San Giuliano milanese così come per Andrea Cavaliere anche lui ammonito in diffida. Finisce così senza reti al Parisi per due squadre, Vogherese e Accademia Pavese già proiettate ormai alla prossima stagione.